Ciao a tutti, sono Marco Sacchi e volevo ringraziare tutti per i contributi che date a Coreamico perché sono tornato quest'estate in Uganda nella scuola primaria San Gabriel di Bethlehem che è un piccolo paese a 5 ore dalla capitale, dal lago Vittoria, è un paese dove manca tutto e dove padre Cosmas con altri tre sacerdoti collabora con le madri canossiane del luogo per gestire questa scuola che dieci anni fa, quando siamo andati la prima volta, aveva 380 bambini iscritti e grazie ai contributi arrivati a Coreamico anche al Vonac e Voica, che è l'associazione con cui sono sempre andato a fare questo viaggio è cresciuto in questi anni, tanto che quest'anno i bambini iscritti erano 1.050 quasi quindi 650 bambini in più che possono studiare, che possono avere un pasto caldo che possono avere diritto a conoscere e capire di più il mondo ringrazio tutti perché a mia volta la gente ringrazia me e ringrazia me perché anche con le adozioni scolastiche le famiglie che avevano difficoltà sono state alleviate dal pagamento delle rette e questi bambini che dieci anni fa, ragazze, che dieci anni fa erano orfani o figli di famiglie in difficoltà oggi sono diventati insegnanti, calzolai, tecnici di laboratorio e possono avere un futuro che non avrebbero avuto senza chi nel suo piccolo contribuisce a questo tipo di iniziative grazie a tutti per il vostro aiuto e continuate a sostenere il cuore amico e tutte le associazioni che lavorano per l'Africa visite il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396